Sono iniziate le potature e i tagli degli alberi nel parco del Villone Puccini. L'intervento interesserà 85 delle 150 piante esaminate dai tecnici del Centro Sviluppo Agricolo e Forestale e consisterà in abbattimenti, consolidamenti e potature straordinarie per un costo complessivo di 35.000 euro. Che situazione avete trovato e che lavoro state facendo? Le piante sono in una situazione di abbandono da diversi anni. Noi stiamo facendo un intervento di consolidamento e di rimozione di secco. e di contenimento delle piante dove si hanno situazioni più pericolose. Quanto durerà questo vostro lavoro? Allora, questo lavoro ha una durata di circa tre settimane per eseguire tutta l'area del Vasco Giochi e anche l'area circostante. L'obiettivo, ha spiegato il Comune di Pistoia, non è solo la riduzione del rischio dei cedimenti ma anche assicurare il benessere delle piante permettendone uno sviluppo più armonioso. Gli alberi che dovranno essere abbattuti sono 11, tra platani, lecci e un esemplare di acero e di albero di Giuda. Quelle da consolidare 7, mentre le potature riguarderanno 67 alberi tra pini, cedri e lecci. Un intervento necessario, urgente e, ripeto, per quanto riguarda i parchi, quindi luoghi frequentati da bambini e da famiglie, la priorità è la sicurezza. Cerchiamo di metterli a posto tutti, piano piano, rifacendoci da una parte. Il lavoro è tanto perché la manutenzione è sempre stata scarsa, quindi questo era necessario. Poi speriamo di passare alla fase successiva che riguarda i giochi e l'abbellimento, però prima la sicurezza, poi il resto.